Il concetto odierno di guerra infinita sembra essere proprio quello della guerra attuale al terrorismo, cioè quella in cui un nemico, il nemico che si cerca di sconfiggere è un nemico invisibile, un nemico impalpabile che in maniera tentacolare si estende sul territorio e nel mondo è difficilissimo da identificare. Una cosa che mi sembrava giusto fare dopo quattro anni di ospitalità ricevuta dal popolo pakistano è proprio di far vedere una delle fasce più incomprese alla loro popolazione come quella Pashtun che viene considerata violenta, spietata, ignorante per un aspetto che non si conosceva, io non si conosceva molto, non lo conoscevo io, che è questo impegno quotidiano nell'assolvimento di funzioni che non vanno solo a beneficio loro ma vanno a beneficio di tutta la nazione perché quello che fanno è eccezionale, loro mettono non solo a repentaglio la propria vita ma essendo dei civili mettono a repentaglio non soltanto la loro vita nel momento in cui assolvono la propria funzione ma con l'impegno di tempo che ci mettono veramente sono fin troppo spesso incompresi e si ha paura di loro secondo me in maniera ingiustificata. Io sono approcciato nel 2008 al Pakistan perché c'erano le elezioni democratiche che succedevano al regime di Musharraf, c'era stato l'omicidio di Benazir Butto e io mi trovavo in una fase professionale in cui volevo uscire dal mio paese per andare a fare un lavoro all'estero. Il concetto odierno di guerra infinita sembra essere proprio quello della guerra attuale al terrorismo, cioè quello in cui un nemico che si cerca di sconfiggere è un nemico invisibile, un nemico impalpabile che in maniera tentacolare si estende sul territorio e nel mondo e è difficilissimo da identificare. Tutto il resto è venuto continuando ad informarmi su questo paese durante tutto il 2008 perché poi mi sono approcciato anche all'Afghanistan un paio di volte e ho deciso che quello invece riguarda la guerra al terrorismo era il territorio ideale per fare una sorta di investigazione, per vedere le cose effettivamente con i propri occhi in maniera quantomeno molto più libera di quanto si può fare in Afghanistan dove per operare da fotografi e c'è bisogno di lavorare con l'esercito americano e con la coalizione. E qual è la situazione pratica che hai trovato in Pakistan? La situazione in generale che ho trovato in Pakistan è decisamente diversa da quella che mi era stata descritta dai media internazionali. E quali sono queste differenze? La differenza è che la popolazione è formata da persone sostanzialmente molto 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 accoglienti, è sostanzialmente più facile approcciarsi a loro di quanto si possa fare in ambienti in territori occidentali, le persone vogliono che la propria storia venga raccontata, hanno un po' un discorso che si può ripetere anche per molti altri paesi del terzo mondo, ma soprattutto non rispecchiano quel tipo di immagine che viene restituita per il Pakistan soprattutto. Quello che emerge sono gli attacchi ai cristiani, quello che emerge sono le donne squagliate dall'acido, in viso, quello che emerge è un paese fortemente infiltrato da un fondamentalismo violento e io devo dire che è tutta un'altra l'idea che mi ha fatto. Prima parlavi del possibile spostamento del centro del terrorismo internazionale, del presunto terrorismo internazionale dall'Afghanistan al Pakistan, come lo concili con quello che hai trovato sul campo? Concilio nel senso, sì, lo concilio molto, perché questa è un'idea che mi sono fatto guardando alla stampa internazionale, guardando molto le politiche estero-americane e soprattutto guardando quello che la stampa pakistana riportava delle relazioni tra governo pakistano e governo americano. In tutta una serie di occasioni riguardando la guerra infinita il Pakistan sembra a mio avviso, adesso sembrava a mio avviso portare l'attenzione molto di più su se stesso rispetto all'Afghanistan appunto nella guerra al terrorismo, come se il peso si stesse spostando in maniera sensibile e visibile in quest'altro paese che poi è il paese che storicamente è entrato per primo nella storia di tutto il divenire di questa guerra. È il paese che diede le basi, che diede i natali ai mujahideen che poi andarono a combattere in Afghanistan sotto l'addestramento di Bin Laden, per conto però a quel tempo degli americani. Dal punto di vista pratico del tuo lavoro, come ti sei trovato, quanto tempo sei stato e che difficoltà poi avevi incontrato nel raggiungere questi gruppi e cosa sono esattamente i gruppi che hai fatto? L'esistenza di questi gruppi ne sono andato a conoscenza verso aprile, aprile maggio 2010, sono entrato a contatto la prima volta nell'estate del 2010, ad agosto, perché ero andato a ricoprire giornalisticamente l'alluvione che c'era stata e li ho trovati impegnati in un esercizio eccezionale delle proprie funzioni, in quanto dovevano pattugliare 24 ore su 24 per aiutare l'esercito a scongiurare la possibilità che queste alluvioni venissero utilizzate dai talebani per potersene avvantaggiare ed infiltrarsi attraverso gli sfollati. L'esercito a quel tempo era impegnato nella ricostruzione del salvataggio e quindi aveva demandato in gran parte questo tipo di sicurezza. Il lavoro vero e proprio è iniziato a gennaio 2011, è durato fino a fine marzo e questi gruppi di cui questa mostra ritrae la storia, la vita quotidiana principalmente nell'esercizio delle loro funzioni, sono una milizia civile auto-organizzata, riconosciuta dall'esercito, ma non economicamente né militarmente sopportata da quest'ultimo né dal governo, che attraverso una divisione naturale che ha di piccoli gruppi appartenenti ad ogni villaggio di questa valle, si prendono il compito, si prendono l'onere di pattugliare i territori attorno e dentro i villaggi per scongiurare queste infiltrazioni di talebani che non sono frequenti ma continuano periodicamente a verificarsi. Parlando dello specifico del lavoro, quello che possiamo vedere in mostra a Parigi, c'è l'uso di diversi formati, è un uso al di là del fatto estetico che vuole dividere il racconto che tu hai fatto di questa situazione in qualche modo? Ho visto questo lavoro che si poteva dividere sostanzialmente in due parti, il 35 mm ritrae da vicino la vita quotidiana di queste persone nei momenti di relax, qualche volta per fortuna nei momenti di intimità anche familiare e nell'assoverimento delle loro funzioni come mantenitori di questo equilibrio di pace che c'è nella valle. Il panoramico invece rappresenta più una sorta di retrospettiva rispetto all'occupazione talebana che c'è stata dal 2007 al 2009. Personalmente io lo considero un percorso in via di conclusione perché sono quattro anni che sono in Pakistan e ho un'altra storia importante per quanto mi riguarda da fare ancora, ma prima di vedere un'evoluzione nelle sorti di questo paese ho bisogno sia fisiologicamente che fotograficamente di una pausa. Per quanto riguarda questo paese nello scacchiere internazionale non vedo una facile soluzione dei propri rapporti nei confronti degli Stati Uniti e quindi vedo purtroppo quasi inevitabile un'evoluzione in peggio. Il Pakistan è un paese che ha la bomba atomica, è l'unico stato islamico dove ha la bomba atomica e visto come gli Stati Uniti si stanno approcciando sempre più spesso e volentieri nei confronti di questo paese da un punto di vista di rapporti non dà bene a sperare purtroppo. Tu vedi ancora un ruolo possibile relativamente al fotogiornalismo? Il fotogiornalismo è in grossissima crisi, non c'è dubbio. Penso che il fotogiornalismo o chiamiamo magari fotodocumentarismo, al di là dell'utilizzo di queste immagini sui giornali che chiaramente devono essere la principale destinazione, possa comunque cominciare a continuare a vivere, si debba continuare a vivere attraverso fonti di finanziamento diverse, ma la funzione di documentazione storica del contemporaneo credo che debba e che ce la farà sopravvivere in qualche modo. Queste forme, come si dice in journalism, sono le forme tra le più pericolose credo perché non sono certo queste a cui bisogna ispirare. quello che si può immaginare possa essere una soluzione, almeno che io spero sia una soluzione a questo problema della svalutazione dell'immagine, dell'informazione, tra virgolette professionistica o anche autoriale, di chi si dedica a quattro anni, chiaramente il sito del giornalismo è proprio tutto il contrario di chi si dedica a quattro anni al paese, è proprio agli antipodi di questo tipo di produzione. E visto che questo tipo di giornalismo non riesce più a fare riferimento ai giornali, io spero, mi auspico, possa essere possibile che il fotogiornalismo, il fotogiornalismo indipendente possano in qualche modo unirsi e chiedere alle persone interessate chiaramente ad avere un tipo di informazione alla produzione di cultura in sé, perché l'informazione è cultura, di supportare direttamente queste forme ormai buccheggianti. Secondo te le nuove tecnologie di diffusione della comunicazione in che modo possono influire? Mi riferisco banalmente a quello che ormai possiamo chiamare il buon vecchio internet, piuttosto che all'editoria che si sposta in forma digitale su piattaforme tipo iPad o analoghe. È chiaro che per questo tipo di forme di indipendente giornalismo hanno bisogno di piattaforme di questo tipo, perché sono quelle accessibili a tutti. Il problema collaterale che ne viene fuori è che è un mare magnum infinito di informazione che viene da internet, uscirne fuori è complicato, c'è bisogno comunque alla base di persone, di lettori che hanno una gran sete di informarsi. C'è bisogno di responsabilità anche dalla parte del lettore, di una grande responsabilità dalla parte del lettore.